La cocaina veniva nascosta per il trasporto all'interno delle vetture e quindi in sottofondi del sedile dell'autovettura, mentre nelle abitazioni nei posti più impensabili o anche all'esterno. Abbiamo trovato nei boschi piuttosto che all'interno di alberi, comunque sempre dove non poteva essere addebitabile al soggetto o comunque dove era difficile da trovare. Così la cocaina veniva prima nascosta e poi trasportata anche nel cuore del centro storico Aretino, pronta per essere ceduta. Un meccanismo ben studiato e collaudato ma che alla fine si è rivelato inutile. Il giro di spaccio è stato infatti stroncato dai carabinieri di Arezzo che hanno messo a segno una tra le più imponenti operazioni antidroga degli ultimi anni. Un'organizzazione diciamo su un livello, su un piano orizzontale, i cui soggetti interagivano di frequente tra di loro, ma non c'era un'organizzazione con un capo, un organizzatore e un promotore, quindi non è stato documentato un reato associativo. L'attività investigativa durata un anno è culminata con un blizza alle prime luci dell'alba, perquisizioni, sequestri ed arresti eseguiti non solo ad Arezzo ma anche in altre sei province. A gestire il traffico di droga erano due gruppi criminali, composti principalmente da cittadini albanesi e rumeni, ma anche italiani, che riuscivano ad introdurre lo stupefacente per poi collocarlo al dettaglio agli assuntori. Fondamentale il ruolo delle quattro donne del gruppo. Davano un appoggio di tipo logistico, quindi erano in testataria delle autovetture e fungevano da corrieri, perché erano sicuramente di più difficile controllo da parte delle forze dell'ordine. I militari sono riusciti anche a ricostruire la filiera dello stupefacente. Se la cocaina infatti arrivava dal nord Italia e dall'Albania, per la Mariguana il canale di approvvigionamento passava dalla Spagna, dove i carabinieri all'interno di una villa hanno scoperto una coltivazione intensiva a ciclo continuo di cannabis. Questo grazie a una stretta collaborazione tra polizia giudiziaria e tra autorità giudiziarie, anche attraverso un ordine di indagine europeo. L'operazione Aquila ha così portato nel tempo complessivamente all'esecuzione di 32 misure cautelari. Gli indagati dovranno rispondere dei reati di concorso continuato e aggravato in detenzione, spaccio e traffico illecito, tingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Inoltre abbiamo segnalato all'autorità amministrativa, avendo documentato alcune migliaia di episodi di cessione, complessivamente 172 persone ai quali assuntori di sostanze stupefacenti.